Le persone potranno intervenire e dire la propria rispetto ai temi legati ai più giovani in questa città. Sappiamo che aumenta la maggiorità, la dispersione scolastica, alcuni episodi di bullismo. È arrivato forse il momento che le istituzioni si occupino seriamente di questo tema. Un consiglio comunale aperto sul tema del disagio giovanile. La richiesta era arrivata dai banchi delle minoranze ed adesso è stata programmata la seduta. La data individuata è quella del 13 aprile in orario pomeridiano. Perché è necessario costruire delle reti, investire delle risorse. I nostri giovani hanno bisogno che questo territorio si accorga di più di loro. Serve, come abbiamo fatto noi di Cielgarezzo, una proposta nel quale le risorse della Fondazione Guido d'Arezzo sulla cultura possono essere invece destinate a corsi, a iniziative e attività rivolte ai più giovani che gli consentono di integrarsi, di crescere culturalmente e quindi di dare spazio più alle loro virtù che magari invece a episodi di divisione proprio tra quei tanei che poi rischiano di portare a brutte esperienze. Gli interventi dovranno essere prenotati all'indirizzo email consigliocomunaleatcomune.arezzo.it entro venerdì 7 aprile. Sì, chiunque sia preoccupato oppure sia un operatore, un professionista, abbia qualcosa da dire per migliorare questo territorio, la collettività e per dare attenzione ai più giovani è invitato a venire a questo consigliocomunale per poter partecipare e aiutare tutti noi a contribuire meglio alla nostra città.